Ben ritrovati nella cucina di Siamo Donne. Se anche voi avete voglia di pasticcio come noi, seguiteci perché lo faremo assieme. Sarà un pasticcio con lasagne verdi, preparato con uova, farina e degli spinaci che triteremo a coltello. Condiremo il pasticcio di lasagne verdi con un ragù che abbiamo già preparato. Voi troverete la ricetta su Siamo Donne. Prepareremo poi una bechamel con del burro, farina e latte. E utilizzeremo del parmigiano in ogni strato del nostro pasticcio. Prima di unire le uova con la farina, mettiamo gli spinaci nelle uova. La lasciamo riposare coperta per circa mezz'ora prima di lavorarla. Prepara una classica bechamel con burro, farina e latte. Cuocciamo adesso brevemente in acqua bollente salata le lasagne. Dopodiché le passeremo in una ciotola di acqua fredda salata e le stenderemo sulle canovacce ad asciugare. Ed ora iniziamo mettendo uno strato di ragù sul fondo della pirofila. Dopodiché andremo su alternando strati di lasagna, ragù, formaggio, lasagna, bechamel, formaggio, fino ad aver finito tutti gli ingredienti. Lo mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Grazie. 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 Grazie.